Aiuto, un autobus mi insegue in un video dei Red Hot Chili Peppers Ciao, sono Magio, benvenuti nel mio canale e benvenuti in questo video su... Vi ricordate il video di Red Hot Chili Peppers Californication? No, non questo, questo! Ecco, qualcuno ci ha fatto un gioco finalmente perché era troppo evidente che ci fosse voglia di avere il gioco di Californication e quindi ve lo porto. Adesso, se volete supportare il canale, vi invito a iscrivervi, mettete un bel like, magari condividetelo con i vostri amici a cui piace Red Hot Chili Peppers e adesso sigla gioco! Come prima cosa potremmo scegliere il nostro membro della band. Abbiamo Chad, ovviamente, Flea, John e Anthony. Prenderemo Flea perché è pazzo come un cavallo. Possiamo scegliere dei di stage. Il problema è il primo. Dobbiamo scappare da questi Redneck e prendere tutti i loghi del Red Hot, fondamentalmente. questa parte non mi pare che ci fosse nel video, ma potrei sbagliarmi. Non so se ci sgamano se parte un suono alla Metal Gear. No, però iniziano a darci dietro con le motoseghe, quindi... Quindi prende molto male. Ehi! Ehi! Scappa! Scappa, Flea! Come se ti volessero far disintossicare! No! Mi hanno segato, però ho preso tutte le stelline. Select Level, facciamo il prossimo, dai! Questo c'era, questo c'era, me lo ricordo. Lo snowboard c'era. Possiamo cambiare? No, voglio scendere con una mucca. Ma posso prendere piene anche le altre mucche? Sì, ma forse non dovevo, forse sì, forse no. Cosa devo fare? Riesco ad andare anche contro... Posso anche tornare in su? No, non posso tornare in su. Però posso andare di lato, eh! Dovevo prendere questo o no? No, lo so. Intanto scendiamo. Scendiamo a bordo di uno squalo. Questo mi sa che è l'arrivo. No! È solo un altro punto di partenza. Come direbbe quello. Ovviamente, sto video è for fun. Direi che... Police cross. Do not cross. E noi crossiamo. Era molto breve l'esperienza. Metterò anche il link in descrizione in modo tale che qualcuno, se vuole provarlo, sappia come fare. Tanto è gratuito. Potete scaricare da Ichio o da Ichio. Ecco l'arrivo laggiù. Oh, oh! Oh, madonna! Attenzione. Sparita, tra l'altro, la barra della vita. Un pochino più suspense. Eeeh, le macchine addirittura. A bordo di una mucca. Finiamo il livello. Non finiamo? Finiamo il livello, sì. Select Level. Poi abbiamo il record, un minuto e 23. Scrivete i vostri. E qui Dreaming Californication diventa nell'acqua. Non vado ammalati di mente Oh, ecco la barra della vita Si può far scomparire tutto Ma anche apparire tutto Via una mappa Una mappa è fondamentale È uscito fuori dal mondo Troppo, troppo Non c'è un tasto per diti di correre Come se si fosse inseguiti dalla polizia Ahia Ma proprio non mi ha fatto nulla Fantastico Andiamo di nuovo dentro le alghe Perché se subito c'è ad attenderci Una bombazza E poi sarà come morire Dov'è l'altro? Eccolo Il protetto Dov'è l'altro? Ce n'è ancora uno Ah, ecco Prossimo, prossimo La macchina, la macchina Stiamo a cambiare anche l'inquadratura Guarda quante Stiamo a rendere il tutto molto realistico La macchina vola E riatterra un po' dove può E' fatto meglio di molti altri giochi di auto che ho provato Devo dire la verità Oh Dobbiamo spaccare una sbarra? Aia Questa velocità è pazzesco Dov'è di essere in un vero simulatore di guida Oh, perché si è girato? E non l'ha pigiato assolutamente niente Ha fatto tutto da sé Vabbè Perché continua a girare? Come ti fa? Finisciole Bam California Eh, palazzo Prossimo, prossimo Cos'è? Il mondo dei funghietti? Cos'è? Oh, porca miseria La Squid Game è diventato E ora? Labyrintho bannaro? No, no, no S Scappa, scappa, cappa Sembrava di averne visto uno qua È lì, infatti Ma come ci arrivi? Non sono segnalati sulla mappa Bastardissimi C'è più tensione che in Squid Game Sai capire? Ma come c'entrano lì? Ah Ah Tutte le ho prese Forse questo aprirà qualche meccanismo Non ce ne vedo mai nella vita Nabilitico Ah, la cosa bella di questo gioco È che la musica non c'è Ti danno delle opzioni Da far suonare In background E se ti vuoi Ti senti quelle Allora, lì come si arriva? Da dietro? È tutto chiuso Non è possibile accedere di cc Non ci debba passare la palla A distruggere A questo livello non mi piace A questo livello non mi piace Lo saltiamo Lo saltiamo Non mi è piaciuto Buu Questo è bello Questo c'era nel video Questo me lo ricordo Non so cosa vogliono Che io faccia Ok, sempre la stessa storia Devo prendere i simboli Deredotti Oh Preso Preso C'era la parte in stile GTA L'avrà fatta L'ideatore di questo gioco Meraviglioso Finisce Bam No Fracchetto finish Scherziamo E l'ultimo È il livello GTA No Non è vero È il livello Prendi pieno le mani Eh Ma non si vede nulla Ah ecco Ora si vede meglio Oh Oh Erup Erup Aiuto L'autobus Mi insegue In un video Di le docce di Peppers Ah Ah L'altra inquadratura Ci serviva una mazza Bella Da dentro l'autobus È la più bella di tutte Aiuto Qualcuno mi aiuti Sta travolgendo tutto saltarle le macchie che c'è di più che passarle accanto ma li tiro in terra io i bigodini i birilli i birilli e così si conclude l'ultimo livello e questo video sul gioco di californication di cui trovate il link è in descrizione visto è gratuito se vi è piaciuto invito a mettere un like, commentare e condividere e ci vediamo al prossimo video, ciao! iscriviti al canale